eeeh cari iscritti eccoci questa nuova puntata di minecraft snapshot benvenuti nello snapshot 23 w31 a chi se lo aspettava così uno snapshot il 2 di agosto prima di cominciare però freniamo un attimo l'entusiasmo perchè non si tratta di uno snapshot per minecraft 1.21 ma di uno snapshot per minecraft 1.20.2 attenzione al punto non ve lo scordate e questo fa parte del nuovo sistema di aggiornamento di minecraft che la mojang già aveva introdotto con minecraft 1.19.4 in questo snapshot comunque troviamo delle modifiche sperimentali molto interessanti al bilanciamento dei villager adesso le andiamo a vedere e anche altri cambiamenti per quanto riguarda resource pack protocollo di rete e tante cose che potrebbero essere davvero molto molto interessanti senza perderci allora troppo in chiacchiere vi ricordo che potete entrare all'interno del mio server discord con il link che trovate qui sotto in descrizione e magari dare un'occhiata anche al mio nuovo progetto fractura mc un nuovo server minecraft che è attualmente in sviluppo cliccando sempre sul link opportuno qui sotto in descrizione e adesso vediamo cos'è cambiato a questi nostri amici villager sono tanti perchè ci sono parecchie cose da dire la cosa più sbilanciata dei villageri partiamo dal dire questo è il fatto che basta veramente trovare un villaggio all'inizio della propria avventura di minecraft trovare un libraio e ciclare i suoi incantesimi fin quando non da mending sharpness 5 protezione 4 e insomma questi incantesimi così davvero tanto tanto forti purtroppo questa cosa per quanto possa essere bella e largamente sfruttata non è proprio il bilanciamento che uno vorrebbe da minecraft soprattutto visto che può essere usato all'inizio del gioco e anzi addirittura in qualche tipo di speedrun e non è proprio il massimo ecco perchè a partire da questa versione da questo snapshot viene aggiunta una funzione sperimentale e adesso vi mostro anche come si abilita che propone una sorta di bilanciamento ai villageri per attivare questa funzionalità sperimentale alla creazione di un nuovo mondo vi ricordo questa cosa serve soltanto se state creando il mondo con una versione tipo gli snapshot dovete andare su esperimenti dalla schermata gioco oppure dalla schermata altro ecco qua e abilitare villager trade rebalance prima di andarli a vedere chiaramente ci tengo a dire che questa è una modifica sperimentale e per questo non sarà così anzi gli sviluppatori come per ogni cosa degli snapshot vogliono ottenere il nostro riscontro e le nostre perplessità, dubbi o altre cose comunque vediamo un pochino questi bilanciamenti sostanzialmente cosa è stato fatto? invece di permettere a qualunque villager libraio di ottenere qualunque incantesimo semplicemente ciclando e ciclando e ciclando sono stati divisi a seconda delle loro diciamo etnie così si può dire a seconda del bioma in cui nasce il villager e quindi a seconda del bioma del villaggero ad esempio questo qua che è il villaggero della tundra avrà soltanto alcuni tipi di incantamenti che vende questo delle nevi altri, questo della savana altri ancora e così via in particolare per tutti i tipi di villager abbiamo tre incantesimi che tra poco vi dirò per il livello novizio quindi appena acquisisce il lavoro quindi anche dopo che si ripiazza il leggio e un altro sempre distinto a seconda del tipo di villager a livello master che si ottiene quando si raggiunge praticamente il massimo dell'esperienza praticamente gli sviluppatori vogliono obbligarci in un qualche modo a visitare tutti i vari biomi per ottenere tutti gli enchant che possono tornarci utili e voglio anche dire una cosa che non è stata specificata in realtà nel changelog ma in realtà dovrebbe essere così di base tutti i villager già esistenti con quegli enchant rimarranno con quegli enchant e non verranno chiaramente resettati in base al tipo di villager anche perché sarebbe una cosa davvero tanto stupida passiamo adesso però a vedere quali sono gli enchant che ogni tipo di villager vende allora il villager della pianura, quello base, può vendere questi enchant grazie non me lo mostri neanche chiaramente il livello dell'incantesimo e il costo in smeraldi quelli restano casuali come erano prima quindi diciamo punch vediamo se mi dai anche gli altri subito smite e torna dentro bane of arthropods questi sono i tre enchant che vende questo tipo di villager a livello 1 ricordate passiamo a quello del deserto che vende infinity thorns e fire protection quello della savana invece vediamo un po' se me lo dice subito sweeping edge chiaramente si tratta di un enchant solo per java quindi su bedrock questa cosa non ci sarà stai fermo non scappare che poi mi fate un casino devo uccidervi no fermo torna dentro dicevamo sweeping edge course of binding lui è molto particolare e knockback finalmente ce l'abbiamo fatta quello del villaggio delle nevi venderà invece acqua affinity looting e frost walker non vi dico neanche quante volte ho dovuto ciclarlo lui perché è stato veramente un inferno peggio di quello della savana e arriviamo adesso però all'ultimo quello del villaggio della tundra che ci darà blast protection fire aspect e flame questi sono gli enchant che troviamo su questi 5 villager diciamo comuni quando li facciamo ciclare al livello 1 chiaramente questo non vuol dire che loro venderanno soltanto questo libro e quello speciale ma mentre salgono di livello fino al quarto perché poi al quinto sbloccano quello speciale potranno sbloccare altri libri incantati tra quelli che posseggono in base alla loro diciamo etnia e questi li ho chiamati villager comuni perché in realtà abbiamo anche il villager delle paludi e quello delle giungle che se da una parte non sono trovabili naturalmente possono comunque essere fatti spawnare se non sbaglio facendo accoppiare due villager casuali all'interno del bioma opportuno quindi della giungla o delle paludi vediamo quindi anche i loro incantesimi perché anche loro hanno i propri incantesimi protezione dei proiettili feather falling e power sono i tre che ci dà quello della giungla vediamo invece questo qua delle paludi ci può dare depth strider non vada dal fatto che il prezzo è schizzato alle stelle e sono successe delle cose con lui ma respiration e curse of vanishing quindi come vedete abbiamo anche dei modi per ottenere le maledizioni in maniera rinnovabile attraverso gli scambi con i villager ma questo non è tutto perché avrete sicuramente notato che mancano degli enchant all'appello e questi sono gli enchant che vi dicevo di livello speciale che si sbloccano soltanto quando il villager raggiunge il livello massimo chiaramente loro adesso mi odiano tutti perché è così che funziona e quindi proviamo ad esempio con questo della giungla a vedere cosa ci dà dobbiamo farlo salire di livello e questa cosa richiederà del tempo ed in realtà qui vediamo che ci dà come incantesimo speciale unbreaking 2 e non 3 e questa cosa in realtà è fissa se non sbaglio il prezzo può continuare a cambiare come tutte le altre cose ma l'enchant speciale per ogni villager è sempre lo stesso in questo caso quindi abbiamo dov'è unbreaking 2 per quello delle paludi abbiamo mending quindi mending diventa incredibilmente più difficile da ottenere per quello della pianura otteniamo protezione 3 e non 4 per quello del deserto otteniamo efficienza 3 e non efficienza 5 come magari qualcuno si aspettava quello della savana sharpness 3 quello della neve silk touch attenzione e questo della taiga fortuna 2 quindi se da una parte otteniamo degli enchant forse quelli più ricercati dai villager da un'altra non otteniamo magari il massimo possibile per quell'enchant e io trovo che questa cosa da una parte sia giusta perché comunque ci sta alla fine in questo modo sei quasi obbligato o a commerciare di più con i villager per quanto riguarda ottenere gli enchant di questo livello più potenti però oppure utilizzare i libri che già hai magari per l'enchant in table o da qualche altra parte magari che hai trovato in qualche cassa d'altra parte però è anche vero che bisogna commerciarci parecchio adesso con i villager per ottenere l'enchant che vogliamo questo qua di livello massimo e quindi non lo so magari alzerei un pochino il prezzo andiamo da questo della giungla alzerei un pochino il prezzo di base magari qui è 30 38 non lo vedo 30 lo alzerei magari 36 però metterei unbreaking 3 al suo posto perché potrebbe essere molto più utile invece di avere 25 così scontato è soltanto unbreaking 2 e devo comunque acquistarlo due volte non lo so fatemi sapere voi che ne pensate qui sotto nei commenti e arriviamo adesso al nostro amico wandering trader villager vagabondo che viene preso in giro da molti perché non dà degli scambi utili a volte lo si uccide per rubargli lama e basta come qualcuno ha già fatto tipo io ebbene a partire da questa versione sempre come parte del bilanciamento dei villager gli vengono aggiunti nuovi scambi sia di acquisto che di vendita e viene cambiato il prezzo a molti di questi scambi vi leggo dal changelog ad esempio alcuni scambi aggiunti può comprare una bottiglia d'acqua per uno smeraldo un secchio d'acqua per due smeraldi un secchio di latte per due smeraldi un occhio fermentato per tre smeraldi quattro patate cotte per uno smeraldo e una balla di fiano per uno smeraldo ma oltre a ciò il villager vagabondo acquisisce anche nuovi scambi di vendita come ad esempio la possibilità di vendere dei log di qualsiasi tipo in particolare otto log per uno smeraldo e anche quello di vendere un piccone di ferro incantato per un prezzo variabile tra i 6 e i 20 smeraldi e abbiamo anche una pozione di invisibilità visto che lui sembra girare davvero con una scorta infinita di queste pozioni per 5 smeraldi come per gli altri villager anche queste sono modifiche sperimentali quindi niente di definitivo e rimaniamo ancora in ambito villager ma questa volta non si tratta più di modifiche sperimentali ma di modifiche che arriveranno effettivamente con la 1.20.2 si tratta pur sempre però di modifiche di snapshot quindi possono essere ancora cambiate fino al rilascio ufficiale della versione la modifica riguarda i villager zombie infatti come sapete possono essere curati con una pozione di debolezza e una mela non questa quella d'oro normale e una mela d'oro dicevo quindi possono essere curati per beh ottenere il villager e ottenere anche dei prezzi scontati come ringraziamento per questa cura bene il brutto arriva proprio qui ovvero questi prezzi scontati del villager saranno effettivi soltanto la prima volta ovvero la prima volta che lo zombie verrà curato dall'essere zombie e quindi tornerà a essere villager i suoi prezzi saranno scontati come sempre ma se ad esempio lo rizombifichiamo e lo ricuriamo quindi gli zombificator per dire i prezzi resteranno invariati lo sconto quindi varrà soltanto per la prima cura tutte quelle successive non faranno abbassare ulteriormente il prezzo che invece resterà come se l'avessimo curato soltanto una volta il prossimo cambiamento quasi a sorpresa riguarda i diamanti che adesso si genereranno in maniera molto più frequente nella zona della deep slate nel layer di deep slate nel sottosuolo e la prossima modifica sulla lista riguarda il blocco barriera e la possibilità adesso di essere waterloggato quindi si può mettere l'acqua all'interno della barriera oltretutto vediamo che non fluisce in giro questa cosa molto bella anche se credo che questa modifica sia stata più che altro aggiunta per fare cose del genere ovvero mettere le barriere in acqua senza che effettivamente siano brutte a vedersi e quindi creino il buco vuoto ve lo provo a fare così ecco qua così questa cosa così che non era proprio il massimo mentre in questo modo essendo waterloggabili è tutto uniforme quasi non sembra che ci sia la barriera è onestamente anche molto bello chiaramente però l'acqua dalle barriere in questo modo non può essere tolta ad esempio utilizzando un dispenser tolta e anche messa si intende usando un dispenser con un secchio vuoto o un secchio con dell'acqua vedete se invece provo a fare così proviamo un po' vedete non la mette e non la toglie la prossima modifica in realtà è molto particolare e riguarda il chorus flower questo qui che poi si può usare per far ricrescere il chorus bene a quanto pare da questa versione non potrà più essere usato come supporto sto cliccando il mouse per blocchi che si possono appendere al lato quindi i banner o gli hanging sign oppure quelli che si possono mettere sopra tipo i cartelli chiaramente mettere un altro blocco funzionerà ma mettere qualcosa che ha bisogno di un blocco solido ecco non funzionerà quindi banner cartelli o cartelli appendibili non considerano più questo chorus flower come blocco solido non so effettivamente chi è che ci metteva roba però adesso non potrete più farlo e arriviamo adesso alle modifiche e novità tecniche introdotte con questo snapshot la versione di resource pack e data pack adesso è la numero 16 e per quanto riguarda i resource pack c'è stata una modifica molto particolare ovvero non so se li avete presenti se avete mai visto come fatto un resource pack però lo dico poi se nel caso siete liberi di approfondire con il changelog le immagini contenenti più sprite ad esempio quella in cui erano presenti l'inventario le icone dell'inventario tipo la vita la barra del livello la fame sono state divise in singole immagini quindi ognuna adesso ha il suo singolo file non sono più in un grosso file immagine e questo quindi permette di modificarle una per una senza dover modificare l'intero file poi sono state rimosse o rinominate alcune vecchie texture e per quanto riguarda questi elementi della grafica sono state introdotte delle opzioni per decidere come devono comportarsi quando si allarga o si rimpicciolisce la finestra di minecraft oppure si modifica la gui scaling eccola qui da questa impostazione comunque sono tutte cose molto tecniche quindi vi rimando al changelog come sempre e sempre i resource pack adesso potranno specificare tutte le versioni supportate di un certo resource pack ad esempio in questo caso la versione è 16 ma possono benissimo inserire che quel resource pack funziona anche con le versioni 15, 14 e precedenti oppure con versioni successive chiaramente però questa cosa questa novità funzionerà soltanto nella 1.20.2 e successive e vengono poi aggiunti anche gli overlay una sorta di sotto resource pack all'interno dei resource pack che permettono da come si capisce dal changelog di applicare delle piccole modifiche al resource pack senza andare a modificarlo completamente bisogna indagare bene questa cosa perché potrebbe essere interessante perché ad esempio sarà possibile applicare un determinato overlay soltanto se ci si trova in una determinata versione di gioco quindi sì va indagato comunque più dettagli sono sempre nel changelog per quanto riguarda i datapack invece è stato cambiato il modo in cui funziona la random tick speed la game rule in modo che interessasse anche l'accumulazione di neve e ghiaccio allo stesso modo di come interessa cose come i crop o la crescita delle vines è stato poi aggiunto un nuovo comando chiamato random che come dirà sicuramente il nome permette di generare un numero casuale all'interno di un intervallo abbiamo tre sottocomandi value, roll e reset chiaramente i più importanti sono roll e value l'unica differenza è che value sarà soltanto per noi quindi il risultato lo vedremo soltanto noi mentre roll lo vedrà chiunque all'interno presente del server ad esempio il range va specificato in questo modo 1.10 ad esempio quindi minimo .10 valore massimo e darà un numero casuale ecco qua in questo caso ho fatto il comando con roll quindi lo mostra a tutti quanti mi dice che ho fatto due tra 1 e 10 e questa cosa è molto molto carina chiaramente i numeri che vengono inseriti sono inclusivi quindi fare tra 1 e 2 vuol dire che potrà uscire 2 oppure 1 quindi sia 1 che 2 viene poi aggiunto un altro nuovo sottocomando al comando execute e in particolare si tratta del sottocomando if o unless function e questo permette di eseguire il comando execute a seconda del valore di una funzione o meglio a seconda del risultato di una funzione infatti per diciamo avere risultato positivo la funzione deve ritornare un numero attraverso return e questo numero deve essere diverso da 0 quindi return 0 non funziona return 1 ad esempio permetterà al comando execute di continuare nel caso si utilizzi il sottocomando if con l' unless invece è l'opposto e un'altra aggiunta riguarda il comando return che adesso acquisisce un nuovo sottocomando ovvero il comando run questo permette di eseguire un altro comando tra quelli presenti in minecraft e di restituire come valore all'interno di questo return il valore numerico restituito da quel comando quindi penso che possa fare una cosa del genere io è molto molto banale ovvero questo qua return 0 restituisce 0 e quindi tutto questo return run return 0 restituirà 0 è la cosa più banale che uno potrebbe pensare ma è 0 ovviamente può essere anche molto più complesso si possono eseguire funzioni così function oltretutto adesso all'interno dei file funzione è possibile definire delle macro quindi diciamo dei blocchi di codice che possono essere eseguiti con variabili che variano per questo comunque vi rimando al changelog perché davvero se no se lo sto a spiegare qui finiamo dopo domani dopodiché sono stati introdotti anche nuovi attributi nuovi tag per alcuni blocchi ed eventi cambiati alcuni eventi di gioco e anche cambiato il modo in cui le display entities vengono renderizzate all'interno del mondo per evitare ad esempio che si glitchino un pochino flickerino comunque cose qualitative ma non finisce qui perché abbiamo anche altre modifiche per quanto riguarda i comandi ovvero guardate un po' io ho questi comandi ultimi eseguiti esco dal mondo e ci rientro guardate qui che bella cosa ho di nuovo tutti i comandi eseguiti infatti è stata introdotta finalmente la cronologia dei comandi che praticamente viene salvata tra mondi tra server tra tutto quindi io ovunque vada ovunque mondo vada avrò sempre gli ultimi 50 comandi eseguiti attenzione a questa cosa sempre con me a cui posso accedere semplicemente con freccetta su o freccetta giù chiaramente questo riguarda soltanto i comandi e non i messaggi in chat infatti se scrivo ciao esco e rientro come clicco su l'ultima cosa che mi appare è proprio l'ultimo comando che ho seguito e non il messaggio di chat è stato poi ottimizzato il protocollo di rete in modo che anche le persone con una connessione non proprio potentissima possano giocare tranquillamente al gioco sui server ad esempio e questo è stato reso possibile inviando i chunk in piccoli pezzi e non in grandissimi blocchi di blocchi rendendo di fatto più leggera e rapida la comunicazione e ancora è stata aggiunta sempre all'interno del protocollo di rete una nuova fase chiamata fase di configurazione per quando si entra all'interno del server durante questa fase il giocatore riceverà tutto quanto quello che viene inviato dal server come ad esempio il resource pack ma non solo anche altro contenuto custom diciamo così inviato dal server e questa cosa io non vedo l'ora che la amplino e la spieghino meglio perché se è come penso io allora potrà servire a parecchie cose anche senza mod davvero è bellissimo quello che stanno facendo spero che sia come me lo immagino anche se Mojang non scordiamoci che dovresti anche aggiungere i crafting nbt eh? eh? quando li mettiamo? comunque per quanto riguarda voi giocatori questo cosa vuol dire? vuol dire che in un server 1.20.2 quando ad esempio vi verrà chiesto di caricare un certo resource pack non sarete già nel mondo cosa che succede magari spawno qui e mi appare subito il pop up vuoi selezionare questo resource pack vuoi usarlo? e magari se clicco no mi butta fuori non saremo più nel mondo ma saremo nel menu questo qua ad esempio delle opzioni così con questo sfondo di terra e questo sostanzialmente permetterà ai giocatori di non entrare effettivamente nel mondo perché quando siamo in configurazione non siamo collegati ancora al server non appariremo insomma nella lista dei giocatori e ne uscirà connected insomma in chat ma anche se veniamo disconnessi perché non accettiamo il resource pack non uscirà scritto si è collegato si è scollegato si è collegato si è scollegato non ci collegheremo proprio e insomma quindi questo era tutto il discorso di quello che è presente in questo snapshot il 23w31a spero di aver detto tutto quanto nella maniera più esastiva possibile vi ricordo non parliamo ancora della 1.21 ma se avete già qualche idea per quella versione beh fatemelo sapere qui sotto nei commenti intanto però discutiamo anche di tutte le novità presenti in questo snapshot e di quelle che arriveranno con la 1.20.2 e fatemi sapere quindi cosa ne pensate detto questo vi ricordo di entrare all'interno del mio server discord e di dare un'occhiata al mio nuovo progetto Fracture MC trovate tutto in descrizione e detto questo se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate e iscrivetevi noi ci vediamo alla prossima puntata di Minecraft Snapshot e ciao 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 ciao